Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Alessandro K con la voce di Fabris Ma che succede? Succede che questa notizia che sto per darvi mi è stata segnalata da Alessandro K di Malati di Simracing Quindi per ringraziarlo io ho proposto di mettere la sua foto che parla con la mia voce Niente, così, per uscire fuori degli schemi Quindi andate dopo il video sul canale di Alessandro K, Malati di Simracing, perché lui è veramente bravissimo Allora, veniamo a noi e a questa fantastica novità presentata da Fanatec Al prezzo di 699,95€ più spedizioni e in preordine al 7 novembre prossimo il nuovissimo Club Sport DD Cioè il nuovo Direct Drive che tutti aspettavano, o meglio la trasformazione della CSV 2.5 in un Direct Drive Che Fanatec descrive come la base per volante Club Sport più avanzata mai realizzata Offrendo una reattività e dinamica veramente notevoli La coppia costante di 12 Nm rende il simulatore di corse molto più realistico Fanatec vanta decenni di esperienza nella tecnologia Force Feedback Che ha contribuito a ottimizzare sia la struttura che il controllo elettronico del Club Sport DD Dividendo il rotore in segmenti sfalzati la coppia di Kogin viene naturalmente ridotta Viene introdotta la tecnologia Flux Barrier Questa tecnologia brevettata aumenta l'efficienza e la fluidità Offrendo un Force Feedback chiaro in ogni situazione di guida Questo Direct Drive presenta una stabilità termica progettato per soddisfare rigorosi requisiti di raffreddamento Rendendo la base Direct Drive più termicamente stabile nella sua classe Una coppia autentica Mentre molti sistemi di guida diretta di massa riducono le prestazioni nel tempo per evitare il surrido di scaldamento La Club Sport DD mantiene una vera coppia di 12 Nm anche nelle condizioni più estreme Questo è quanto dichiara Fanatec Sensazione di presa, la stabilità termica offre ovviamente prestazioni costanti Permettendo ai piloti di sentire veramente la presa degli pneumatici e di guidare al limite Accelerazione rapida, cioè la velocità del servomotore Club Sport DD Permette di affinare il comportamento del volante con maggiore precisione Full Force, che è un nuovo protocollo di Force Feedback Creato appositamente per Fanatec Direct Drive Che genera vibrazione ad alta frequenza per un'esperienza di guida immersiva Risposta di precisione La Club Sport DD offre una risposta del motore incredibilmente veloce E dinamica grazie alle sue prestazioni slow rate e al potente processore Fanatec la descrive come solida come una roccia La Club Sport DD offre potenza in un pacchetto compatto Un albero del motore robusto in alluminio all'interno del motore E il più forte mai realizzato da Fanatec E ovviamente il Quick Release 2 integrato Questa Club Sport DD è stata progettata con il nuovissimo sistema Quick Release 2 Con il modulo elettrico Quick Release completamente integrato Con l'albero per una maggiore resistenza Queste sono le caratteristiche principali del nuovo Direct Drive Club Sport DD Che Fanatec presenta, come dicevo, in preordine il 7 novembre Quindi ragazzi, se questa news vi è piaciuta Non esitate a lasciare un pollice in su al mio canale e al canale di Alessandro Lasciate un commento qui e sul canale di Alessandro Ed iscrivetevi al canale di SimDrivers E al canale di Malati di SimRacing Da Fabrice e Alessandro è tutto Un abbraccio, ci vediamo prestissimo Ciao